Allora, vi aspettiamo il 30 novembre al Teatro Sperimentale per un incontro per noi molto importante. Vega è un'impresa sociale, lavoriamo nel territorio della Regione Marche da diversi anni e da due anni siamo presenti anche nel territorio di Pesero. Ci sembrava importante dare un piccolo segnale anche al territorio su quello che per noi è fondamentalmente un tema legato al nostro lavoro, cioè la cultura dell'ascolto e della relazione. Ascolto e relazione sono due parole importanti. Non è a caso che abbiamo chiamato, collaboriamo da anni con Guidalberto Bormolini, è un monaco accompagnato Franco Battiato negli ultimi mesi, anni della sua vita, con un'amicizia molto importante e verrà proprio a parlare di questo, perché l'ascolto, la relazione, non è soltanto qualcosa che facciamo nello studio clinico, nell'ambito della psicologia, della pedagogia, ma è qualcosa che appartiene un po' a tutti. Allora, regalare alla nostra città la possibilità di un confronto con Guidalberto, che si occupa anche di accompagnamento del fine vita, cioè l'importanza dell'ascolto, di accompagnare le persone, la relazione come atto di cura. Ecco, in questo incontro parleremo di tutto questo e avremo l'occasione anche di raccontare come Vega, nell'ambito di questo territorio, offre progetti di prevenzione del disagio e promozione del benessere individuale, familiare e sociale. Aspettiamo allora il 30 novembre, all'ora 21 al teatro sperimentale, naturalmente l'ingresso è gratuito perché è un'attività promossa da Vega, in collaborazione col Comune di Pesaro e la Regione Marche. Sul sito di Vega o anche del Comune troverete le indicazioni per la partecipazione gratuita, previa prenotazione.